Tu? Dove? Tu fasi? Ciao! Come ci fa per te? Ciao, non ho deciso di più. Ciao, Nettigen, spero stiate tutti bene. Siamo pronti a ripartire, state con noi. Le notizie della giornata. La notizia della giornata. E sto aspettando di cenare. Cenare? Sì, stasera bokeh. Ciao! Chi è? Ho Lola. Wow! Ci hanno dato le barchette di quest'altro di solo e di più. E anche du lì, le barchette. Ok, perfetto. Ciao! C'è anche mamma Alessia. Ciao! Stasera facciamo un video. Ciao, baci. Dov'è un po' di più? Dov'è un po' di più? Dov'è un po' di più? Sì, però io voglio dare un po' una passata. Cosa ci facciamo? Con la canette verde. Questo qua. Due, due, quattro. Amore telefono. Amore, due. Ora posso. Ora posso. Cosa ci facciamo un po' di più? Cosa? 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 E questo è perfetto. Ok. Allora, se riesco da più. Questo cosa c'è dentro? Allora, l'edamame, il riso bianco, il riso venere mi pare, edamame, salmone, poi cos'era? Tonno? Cipolle. Sì. Gambini. E pollo, esatto. Questo di tecla e questo di mamma, l'ultimo. Noi abbiamo presi più piccoli perché siamo più piccoli e mangiamo più meno. No, però perché mangiamo appunto di meno. Ok, adesso possiamo mangiare buona cena. Buona cena. Ma pochè? Mamma, mi chiedono anche un pochè. Ma è la prima volta che lo mangiate. Pochè? Già di pochè. Sì, io l'avevo visto con voi. Oh, no, no, no. Venga, massimi. E chi è che ha preso i seminili? Nessuno. Secondo me ne ha messi a caso. Oh, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Vorrete un po' di filadelfia dentro? No, ma perché c'è già ricco. Perché la filadelfia? Si. Si. Mettiamo qua. Oh. Oh. Ho fatto un misto. Ho messo quinoa e il riso di venere. Di me. Di me. Buon, no? Mmm. Un po' proprio della cipolla. Buona tanto. Ha preso il pollo. Vuoi sudare? No. Io sì, dopo ho messo il pollo. Cosa sta mangiando mamma Alessia? Eh, il pochè. Il pochè. Quindi cosa c'è dentro? Io ho messo un riso misto, un riso di venere con quinoa. Mmm. Ho fatto un misto. Poi i fagiolini, che non mi ricordo come si chiamano. E da mame. E da mame. E il pollo. Il pollo è? Un po' di... E come si chiamano questo? Il rosa, il... Salone. No, non è salone. Che cipolla trepoia? No, no. Oh, teriyaki. No, no. È un... Zenzero rosa. Ah, zenzero rosa. Eh, non l'avevo mai assaggiato molto buono. I germogli. Quindi, l'assaggio è meno forte rispetto all'altro. Buono. E tu cosa ha preso Aurora? Allora. Riso bianco. Mi da mame. Salmoni. Adesso ho messo la Philadelphia. E alga. Wow. Buono. Buono. E tu amore? Cosa ha preso? Buonissimo. È un po' giapponese. Giappone style. È fatta con il riso bianco. Gli alghi e wakame. E damame. Tonno. E... È buono. E... Crispy onion. Ah, crispy onion. Poi avvicinare anche con il salone. Salone e baffa. Ah, no. E anche l'avocado. Buonissimo. Salone. Salone. Maccano. Te l'avocado, le salone. Oh, non è male. È male. È male. Ma pare il tono. Non è bene. Mi piace però tanto il sole. Mmm. E ho messo tutti i salsi tiriaqui. Tiriaqui. Oh, wow. però ti rendi conto alla fine come con il nasce shampoo indonesiano per tutti i misti? tipo? è uguale però per un piatto così probabilmente è semplice ma perché le proteine è niente una questione di marketing ah di marketing ma che buono ah si ma è un po' diverso è leggero ok bro so sekarang kita masih makan poke poke enak pokoknya nah nanti kita tanya kepada keluarga semua dan kita akan jelasin kenapa sudah lebih dari 8 bulan 9 bulan kita tidak bikin video bareng-bareng nah kita tanya bareng-bareng sekarang kita akan berguna sehingga kalian semua paham ok ben ritrovati dopo tanto tempo anche a noi fa piacere essere insieme e trovarci a cenare insieme perché poi non è così tanto frequente come lo era prima sono cambiato un po' di cose in questi mesi ci sono stati cambiamenti anche nella nostra famiglia quindi non tutti viviamo insieme e quindi i momenti in cui ci si ritrova per condividere un pranzo oppure la cena sono molto meno e anche il fatto di stare insieme adesso diventa diventa più complicato per cui niente siamo qua siamo tornati e cercheremo di impegnarci per avere più occasioni di quindi da fare per fare video quindi anche per i piatti per cucinare insieme per condividere poi con voi sambil ngopi mantap si jadi selesai makan malam bareng bareng tadi bersama dengan keluarga kita tanya ini malam allo netizen abbiamo finito di cenare finito tutto tutto quello che c'era dentro la pokè molto molto gustosa devo dire che sono contenta di aver non è la prima volta però questo piatto di origine hawaiana è entrato anche con un po' come il sushi nel nostro nella nostra quotidianità e ogni tanto è bello provarlo o assaggiarlo si è vero per me è stata la prima sera la prima volta che ho mangiato questo pokè l'ho assaggiato volentieri mi piaceva capire di cosa con che cosa era fatto e il gusto che aveva allora devo dire che mi ha soddisfatto è stata comunque una cena leggera e comunque c'era il riso la quinoa che comunque a me piacciono io li mangio abitualmente e dopo questo mix di che ne so di varie cose dalle proteine alle germogli all'avocado cioè proprio buono mi ha soddisfatto comunque è una cena che non ti lascia la pesantezza ed ogni tanto si può gustare e si può fare come c'era alternativa io invece la mangio praticamente spesso quindi per me è come se fosse un piatto normale ed è buonissima non ho altro da aggiungere no sono sempre un altro da aggiungere questa volta a top io la mangio spesso quindi per me è buonissimo sì mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace seppagmola calcio 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 non 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 No, 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 no Sì, sì, sì 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 Allora Chỉ sang content Karina Questa ha Ok, seguiteci ancora, noi vi promettiamo che ci rivedremo, ci rivedremo presto tutti insieme e ciao, saluto a tutti. E chiediamo scusa perché non c'è la Sofia, c'è l'impegno e nel prossimo video, next next vlog facciamo tutti insieme. All together Ok So... Ciao 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 Ciao